Sveglia Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Buonasera a tutti. Ciao. 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 Bello vedervi qui stasera. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Yeah. 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E siamo arrivati all'ultimo. Ringraziamo il TNT. Ringraziamo tutti i gruppi che hanno partecipato stasera. E niente. Lì ci sono i nostri CD. I nostri vinili. I nostri maglietti. E poi che cazzo c'è? Cazzo cazzo. C'è stata la roba del Sonic Wolf, c'è stata la roba del Malleus. Tutta la roba molto bella. La prossima è Goliath. Grazie a tutti. 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 Grazie. Fate una cover. Una cover del Temple of Dust. The number of the beast. Una cover del Temple of Dust. La cover del Temple of Dust, dai. Vabbè dai, facciamo un beast. Questa è una canzone che non la chiamiamo ancora fatta uscire. Mioii! Mi regalo molto. Mi parla di cannibalismo. Minchia ovo. Mi ha detto niente. Si. C'è argomenti... Beh dopo spiegagliela però. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.